insieme a tutti gli altri provvedimenti che come Parlamento siamo tenuti a mettere a punto, ha una sua ragionevolezza e mi auguro che il 2014 sia anche un anno in cui seriamente e senza scontri ideologici possiamo affrontare questa questione. Grazie. Grazie, onorevole Marazziti. Chiede di intervenire ora il deputato Di Battista. Prego, ne ha facoltà. Non interviene? No. Ah, allora, il deputato Sorial. Grazie, Presidente. Io voglio porre l'attenzione dell'Aula al fatto che il 22 dicembre, ossia pochi giorni fa, è venuto qua il Presidente del Consiglio a chiedere la fiducia su un decreto e pochi giorni dopo lo stesso decreto è stato direttamente ritirato e ci troviamo qua in Aula a sentire che per l'appunto è stato ritirato. Ora, qua il Presidente Letta su quel decreto ha ottenuto una fiducia larga, negata naturalmente dal Movimento 5 Stelle, poiché c'eravamo fin da subito contrapposti al contenuto di questo decreto. Io mi chiedo adesso, glielo chiedo a lei, Presidente, cosa farà il Presidente Letta dopo quello che è appena successo? Cosa faranno i deputati che hanno dato la fiducia su quel decreto ed ora se lo ritrovano ritirato? Nel senso che noi per nove mesi non abbiamo fatto altro che lavorare su decreti e la maggior parte dei decreti poi, sistematicamente, nel momento in cui si apriva la discussione in Aula, il dibattito in Aula, si negava al dibattito e veniva posta la fiducia. Oggi, con questa dimostrazione, abbiamo la dimostrazione più palese che la fiducia posta e chiesta dal Presidente del Consiglio sul decreto non funziona, non può funzionare, che i decreti non possono funzionare, quest'Aula non può funzionare solo per decreti. Anzi, abbiamo anche la netta dimostrazione del fatto che la maggioranza che ha votato la fiducia, il Presidente eletta che l'ha chiesta, hanno fallito completamente. Perché per impedire il dibattito in Aula e per impedirci di parlare e per la loro non voglia di ascoltare le nostre ragioni sul fatto che da sempre, e abbiamo denunciato soprattutto negli ultimi giorni, il fatto che non era ammissibile avere un decreto come Salva Roma, così pieno di marchette, l'abbiamo detto, così inutile, all'interno, tra l'altro, delle situazioni che da sempre noi combattiamo, come quella delle slot machine, che a che dir si voglia, noi ai nove mesi che siamo qua dentro e denunciamo questo fatto, e denunciamo questa situazione particolare dei condoni alle concessionarie delle slot machine, e poi si arriva e qualcuno prende la vittoria sul cambiamento della norma delle slot machine. Ecco, tutte queste situazioni che noi abbiamo denunciato e che continuiamo a denunciare da nove mesi devono avere in qualche modo una fine. La fine, dal punto di vista politico, è la dimostrazione che questo decreto non funzionava, la dimostrazione che la fiducia non poteva essere chiesta, ed è la dimostrazione che il decreto è stato ritirato. Ed è per questo motivo che voglio porre l'attenzione dall'Aula su queste questioni, far capire a tutti che la nostra battaglia, sia sulle slot machine, sia sugli affitti d'oro, sia su tutte le altre porcate che abbiamo denunciato, dalla legge di stabilità fino al decreto Salva Roma, hanno ottenuto un ottimo risultato e hanno ottenuto la nostra vittoria su questo decreto. Porgo, pertanto, l'attenzione di tutti i deputati qua presenti e li invito a riflettere e a porre una grandissima attenzione su questo fatto, onde evitare che si ripeta questo loro errore la prossima volta, se mai dovrà succedere, che il Presidente del Consiglio venga qua a chiedere loro fiducia su un decreto che in realtà non dovrebbe nemmeno essere scritto. Grazie. La ringrazio. Il deputato Migliore ha chiesto di intervenire. Grazie, Presidente. Io vorrei segnalare al Governo e anche all'Aula e a lei il caso che abbiamo avuto modo di contattare direttamente di una coppia di cittadini tunisini che sono in questo momento reclusi all'interno del CIE di Ponte Galeria. Si tratta di una coppia che è stata immediatamente separata nel momento in cui è stata trattenuta all'indomani della richiesta di identificazione e la donna, Alia, ha tentato anche il suicidio. Sono persone che provenendo dalla Tunisia possono essere rimpatriate, però scappano in quanto scappano dalla famiglia divenuta nel frattempo salafita. Questo argomento per adesso non ha generato un'adeguata protezione, in particolare per la donna che appunto ha tentato il suicidio al momento in cui ha preso della possibilità di essere rimpatriata. e io credo che associandomi ovviamente alla richiesta che è stata fatta da più parti di rivedere le norme...